Musica Siamo con Giuseppe Filippo di Rendoni Associati capitano di Nino che ci sta guardando siete i primi quest'anno quindi dovete intanto riscattare, non so se ve lo sapete vi siete nuovi, la finale è stata persa l'anno scorso quindi sapete sapete tutto, quindi sicuramente c'è un po' di cattiveria però ho visto che sta andando bene penso che abbiamo fatto bene fino ad adesso cerchiamo comunque di continuare così arrivare prima allo scontro diretto e giocarcela poi con i dove mi trovo siete a pari merito se non sbaglio adesso, oppure c'era un punto visto la classifica l'altro giorno siamo a pari merito la finale l'anno scorso era Rimini, quest'anno c'è il premio in Formentera quindi abbiamo alzato la posta in palio il sogno in Formentera ci ha messo un po' di cattiveria in più e cercheremo di raggiungere questo obiettivo se ti faccio questa domanda siete nuovi voi? come vi siete trovati con il livello del campionato? con la squadra, i compagni? il livello è molto elevato bisogna dire quindi siamo ancora più soddisfatti di aver raggiunto il primo posto perché era difficile cioè un grande campionato la squadra, il nostro punto di forza è la squadra quindi puntiamo molto su quello poca individualità e tanta squadra grazie, faccio i complimenti speriamo che vi possa portare fortuna e arrivare fino in fondo ciao ragazzi, complimenti ciao